Un malvivente solitario ha tentato una rapina ai danni di una tabaccheria di Nuoro, ma la reazione dell'esercente lo ha costretto alla fuga. L'episodio si è verificato stasera attorno alle 18.25 in Viale Repubblica. Il malvivente, travisato e armato di pistola, è entrato nella tabaccheria a Sistanku. Facendosi scudo col colpo di un cliente, ha intimato al gestore di consegnargli l'incasso della serata. Ma il proprietario del tabacchino, dopo aver consegnato al rapinatorio una banconota da 20 euro, ha reagito scagliandogli contro un bastone in legno. La reazione della vittima della rapina ha costretto il malvivente a darsi alla fuga nelle vie circostanti, dove ha fatto perdere le proprie tracce. Scattato dall'allarme sul luogo della rapina, sono intervenuti gli agenti della squadra volante e della squadra mobile dell'acquistola di Nuoro, che hanno attivato le ricerche del rapinatore e avviato le indagini per arrivare alla sua identificazione.